Presidente Marsiglio, quindi un appuntamento con la Marina Militare oggi qui a Giulianova, un appuntamento con la Camera di Commercio e con una serie di eventi. Una bellissima occasione di cui ringrazio la Camera di Commercio del Gran Sasso che ha voluto organizzare questo evento, questa presenza della Marina in un porto importante come quello di Giulianova è anche un segnale che mostra una volontà di valorizzazione, di crescita, di investimento su questo porto che sarebbe sbagliato definire minore o piccolo, è un porto importante nell'economia regionale, ha la sua vocazione, la dobbiamo incrementare e sviluppare questo affaccio sul mare che garantisce la città di Giulianova e tutta la costa terramana e la costa triatica è oggi nobilitato dalla presenza della nostra Marina Militare. Quindi una bellissima occasione, speriamo che possa aiutare a far crescere l'interesse per la nostra costa e per incrementare anche la cultura del mare di cui abbiamo bisogno. Presidente, questa è una nave tra l'altro che fa un lavoro molto importante per i fondali? Sì, fa un lavoro molto importante perché nasce militarmente per trovare le mine e come abbiamo scoperto curiosando e chiedendo al comandante ce ne sono ancora, ancora dalla fine della guerra, ancora residuati bellici che compromettono la sicurezza della navigazione ma poi sono attrezzate in maniera tale da verificare fino a una importante profondità la presenza di altri oggetti sui fondali, con il controllo dei cavi sottomarini e quindi è un lavoro costante che viene fatto, poco conosciuto è stata anche l'occasione per conoscerlo e permettere ai nostri marinai di far conoscere che cosa fanno ogni giorno su queste navi e quale servizio rendono la comunità nazionale.